e benvenuti ragazzi in questo nuovo video sono dei caziergamer oggi siamo ritornati su trivia kak kingdoms e oggi faremo un quiz di brawl stars iniziamo subito scegliendo la cassa in mezzo che classe è stecca seconda c ma che vuol dire tirato non la voglio la vita buono che è questo brawler no re cosa vuol dire bull mappa mondo come si chiama questa skin donato a bianco re di nuovo come si chiamano le abilità stellari di colt ok basta con sta vita buono se non la voglio pirato come si chiama la prima abilità stellari di rosa erbo rossa quanto costa questa skin quale brawler tra questi è epico era mai che colla super l'angelo una bomba gigante qua ma sembra qua ste re cosa indica il quindici il grado di brawler mi manca una corona ninja bull ha la super simile a quale brawler non la voglio sta vita bonus basta ok quanti oggetti contiene la cassa enormi due tre quattro e no vabbè come si chiamano le due abilità stellari di leon scelta scelta di fumo ancora mi sembra in alto e sinistra re quante sono le realità presenti nel gioco eeeh allora raro super raro e eeeh 6 col cammino wow abbiamo vinto però è durata troppo poco direi di farcene un'altra però con un altro sito mettiamo questo domanda di che in realtà è car domanda un po' più difficile no eh si però sembra un gioco vedi l'immagine come si chiama questo oggetto biglietto dell'evento come si chiama l'abilità stellare di pocio musicoterapia pennello questa skin di jesse come si chiama jesse steve e no a quante coppie si sblocca colto 60 riconosci questa skin di chi è e come si chiama buca buca e qua ok secondo il tuo estinto pocio è un carista ok chi è stato totalmente cambiato a febbraio 2019 che ne so stecca si un'altra domanda come come si chiamano questi brawler colt e dai di che colore sono i capelli di piper biondo due domande pure chi sarà il nuovo brawler 25 aprile aprile non febbraio perché sono stupido vabbè ok rieccoci basta domande allora come si chiama questa brawler anche se sembra una dei ghostbusters però basta domande qual è il colore della maschera del primo blu chi è definito sicario veloce mortis chi è caro non ci credo chi è il brawler più alto compreso capelli blu oh si è uscito alla fine quando si può trovare l'abilità stellare a livello 9 ok in mezzo i nuovi brawler eugenio e carl di che rarità sono metti che sopra domanda domanda difficile come si chiama questa mappa di sopravvivenza mille live tre domande due domande è mai uscito un sondaggio sì chi è lui chi è carlet vabbè questa domanda sarà difficile come si chiama il nuovo brawler marzo 2019 se non sbaglio caro ok altra domanda questa skin di shelly come si chiama shelly bandita eh basta domanda come si chiama l'azienda che ha creato brustars epic games super shell questo come si chiama la skin di stecca stecca scoppiocante mi mancano due corone mappavando subito chi è il sicario tossico corone Sì, Re! Chi sono? Spike and Leon? Ma come si? Hai un messaggio? Oh, Re! Rosa, da che cosa è protetta? Cacchio, aspetta. Ok, volevo, non... Stavo volendo sentire lo scuro e do una piatta carnivora. Comunque, obiettivo raggiunto, laureato. Va bene? Ma che me ne frega? Nerd? Tu sei un nerd? Basta, sapientone. Ok. Beh, direi ragazze che per questo video di Trivia... Riuscirò a dirlo ben un giorno, non vi preoccupate. Trivia, Crack, Kingdoms, è tutto. Ci vediamo in un prossimo video e ciao. Che cacchio ho fatto? Ciao ragazzi!